In fondo Uomo e Galatomo sono tre atti unici. Il primo è dove praticamente assistiamo proprio al vero teatro, infatti fanno le prove di questa malanova, eccetera, eccetera. Il secondo poi è lo sviluppo della situazione, poi assistiamo a questa tragedia familiare e poi c'è l'epilogo, per me sono tre atti unici. Infatti era notorio che i fratelli di Filippo le commedie le hanno scritte in scena. Molte commedie, infatti, perché sono stati litigati tanti anni Peppino e Edoardo? Perché molte commedie le scrivevano in scena al soggetto, si recitava al soggetto, come facevano i vecchi attori, come faceva Shakespeare, la stessa tempesta è stata scritta, ognuno si scriveva il suo monologo, la balia, eccetera, eccetera. Il teatro nasce così, insomma, il teatro è improvvisazione, no? E quindi, infatti, c'è stata una polemica tra Peppino e Edoardo. Peppino, molte cose, ha detto, noi le abbiamo scritte insieme. Poi, quando si sono divisi, Edoardo ha preso la... Anche Natale in casa Cupiello era un atto unico e poi è diventato tre atti, perché tutte le sere Peppino aggiungeva, era un comico eccezionale, Titina metteva la sua, erano tre mostri sacri, però nei momenti in cui si sono poi divisi i fratelli di Filippo, Edoardo ha detto, è tutta roba mia. E questa è stata una vecchia polemica. C'è un libro di Peppino che adesso è introvabile, che parla di una famiglia difficile e parla di tutto, di tutte le prepotenze di Edoardo, insomma, eccetera. Lui era un po' despote della famiglia, insomma. Guardi, io posso apparire ruffiano, non lo sono affatto. Recitare con Geppi è una cosa meravigliosa. È un attore che io ho recitato con tanti capocomici, i quali erano pure gelosi del successo altruide. Invece Geppi è così felice quando prendiamo un applauso, quando, insomma, lui è dalla parte nostra, non è un capocomico, è un collega. Lo stesso Lorenzo, insomma, non danno mai il peso del capocomicato, sono dei colleghi, ma dentro e fuori la scena. Ed è un piacere lavorare con loro, mi creda. Io l'ho detto, l'ho dichiarato varie volte, Geppi è il miglior capocomico. Io ho 77 anni, ho 50 anni di teatro, è il miglior capocomico che ho lavorato fino adesso. Perché di solito i capocomici, specialmente quelli napoletani, sono un po' tutti gelosi. Lo stesso Edoardo era molto geloso e non voleva assolutamente che gli attori uscissero fuori riga di una battuta. Qualche volta che un attore faceva una battuta soggetta, era alla fine. Metteva le prove e lì avevano delle multe, all'epoca c'erano delle multe. Invece no, qua con Geppi è un piacere lavorare. È un collega, non è un capocomico.